I giorni Federica Calemme e Gian Maria Antinolfi hanno sorpreso i follower con un annuncio del tutto inaspettato, fatto tramite i social. I due si sono conosciuti nella casa del grande fratello, precisamente nel 2021, e si sono follemente innamorati. Dopo l'esperienza vissuta in televisione, hanno continuato a frequentarsi lontano dalle telecamere e sono diventati una coppia a tutti gli effetti. Oggi sono inseparabili. Come è evidente, dalle foto e dalle storie Instagram in cui appaiono insieme. Ebbene, proprio l'ex Geffina nelle ultime ore ha pubblicato sul suo profilo una foto in cui con la mano copre il viso di Gian Maria, ma porta all'anulare un anello molto importante. La modella non ha corredato lo scatto con un commento, ma è chiaro che Gian Maria le ha fatto una splendida proposta di matrimonio e che lei, avendo il gioiello al dito, ha accettato. Non si conoscono al momento dettagli sulle nozze, ma di sicuro, appena possibile, la coppia fornirà ai follower ulteriori informazioni.